Ho iniziato praticando le arti marziali da giovanissimo perché sentivo comunque la necessità di una disciplina che avesse un riscontro oggettivo che mi aiutasse in un certo senso a dialogare con le mie paure. Da lì in brevissimo tempo poi sono arrivato ad approcciare anche allo yoga. Devo dire che il mio intento è quello di cercare di non vivere o entrare nella pratica con la routine. Cerco sempre di approcciare all'insegnamento, alla pratica come se fosse la prima volta. Arrivare a viversi la pratica con grande piacere, leggerezza soprattutto e in assenza da identificazione nella pratica stessa. L'atteggiamento secondo me migliore e anche il più semplice è quello di capire la motivazione per cui siamo andati a chiedere informazioni per iniziare una pratica olistica.